Gima Transenata esattamente 30 anni fa è stata fondata da mio padre e mio zio. Grazie a loro oggi di camion ne abbiamo 160, 180 dipendenti, il 90% dei quali è costituito da personale viaggiante. In magazzino strucchiamo le merci dei nostri clienti e facciamo un servizio certificato di riparazione bancali Epal. La soluzione Green Track per Gima Transenata è nata da una domanda che ci siamo posti. Che senso ha imporre dei divieti di circolazione nei centri città quando noi trasportiamo merci che vengono refrigerate con dei gruppi frigo che forse hanno classe di emissione Euro 1? La soluzione Green Track ci consente di trasportare e refrigerare al 100% green. In ambito urbano l'impatto acustico è pressoché irrilevante. Se io dovessi paragonare una soluzione Green Track e una standard, in primis la media consumo incide negativamente in media del 7%. Dall'altra però il frigo mi funziona elettricamente, pertanto il mio risparmio è su quei litri di gasolio che mi consentono di recuperare con gli interessi quel che ho perso strada facendo. Con Scania durante questo percorso abbiamo creato una famiglia e questo legame ci fa sentire più forti verso le sfide che il futuro ci riserva.